Si infiamma il penalt americano. Gara 4 della finale di National League tra Dodgers e Brewers, a Los Angeles, è stata risolta solo al tredicesimo inning e riportata in parità sul 2-2 nella serie sul 7 a vincere è stata Los Angeles grazie ad un singolo a destra battuto da Cody Bellinger contro il rilievo junior guerra che faceva toccare il decisivo punto del 2-1 a Machado, arrivato in seconda sul lancio a pazzo. A nulla è servita l'assistenza a casa di Yeach. Il match era fermo sull'1-1 dal quinto inning. Stasera gara 5 al Dodger Stadium con il ritorno sul monte di Clayton Kershaw.American League, Boston passa 8-2 sul diamante dei detentori di Houston in gara 3 ora conduce la serie 2-1. Decisivo un grande slema all'ottavo inning di Jackie Bradley Jr. Stasera gara 4 a Houston. Polemiche per la telecamera nascosta nel dugout, grazie alla quale venivano scoperti i lanci di Boston a contestare è stato il manager dei Red Sox, Alex Cora, un anno fa bench coach degli Estros.